Salve amici del Centrometrio Italiano. Correnti fresche in quota portano in stabilità su diverse zone. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 28 maggio. Acquazioni e temporali sparsi al mattino sulle regioni di nord-est, ma fenomeni possibili anche su Romagna, Marche, Campania e Basilicata. Al pomeriggio instabilità in aumento soprattutto sulle zone interne del centro-sud, con temporali localmente anche intensi. Variabilità asciutta altrove. Inserate e notte da precipitazioni in esaurimento ovunque, con nuosità e schiarite. Temperature minime in rialzo, massime in lieve calo al centro-nord e in aumento al sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.